Si chiama Nun by FedEx ed è una linea di smalti in piena regola creata dal buon FedEx al secolo fedeli con Lucia. Pensate infatti che lo stesso cantante, famoso in tutta Italia e non solo, di recente ha deciso di creare questa linea di smalti e il sito che va a offrire, che va a commercializzare questi smalti è andato letteralmente in tilt in appena 120 secondi di tempo, in appena 2 minuti di tempo. La causa di questo tilt è da attribuire alla quantità impressionante di accessi che ci sono stati. E' un FedEx raggiante a mio avviso felice, ha pubblicato anche se non era una storia su Instagram dove si vede appunto lui con la mano così a sinistra, siamo mai errati? E brillano queste unghie che hanno uno smalto addosso. Bene, lui appare in una bisbeste, chiamiamola piuttosto particolare. Ogni singolo smalto costa intorno ai 18€ costerebbe, il kit però completo costerebbe intorno ai 68€ e 80 centesimi circa. Questo dunque sarebbe quanto, vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Complimenti al buon FedEx, il video di vedo termina qua. Iscrivetevi al canale, ne ha la dovete, ne ha commentate. Ciao a te, andiamo al prossimo video, grande FedEx. Ciao a te, andiamo a tutti.